La netta vittoria di Bersani anche in Molise scioglie le polemiche piovute sui vertici regionali del PD dopo il risultato ottenuto al primo turno. Anzi, proprio il Partito Democratico si prende una bella rivincita presentando il conto finale con Pierluigi Bersani che in Molise fa meglio della media nazionale. 63,30% rispetto al 60,8%. In Molise hanno votato quasi in 10.000. 6.199 le preferenze per Bersani e 3.562 quelle per Renzi. Il rottamatore vince in provincia di Campobasso solo in 9 sezioni su 42 e in una sola su 24 in provincia di Isernia, quella di Filignano. Scontato il risultato di Riccia dove grazie al sostegno di Micaela Fanelli il sindaco di Firenze ottiene 362 voti rispetto ai 33 di Bersani. A dare fiducia a Renzi anche i comuni di Castropignano, Cerce Maggiore, Ferrazzano, Monacilioni, Pietracatella, Sant'Elia, Pianisi, Tufara e Vinchiaturo. Tutto il resto è bottino di Pierluigi Bersani che a Campobasso ha quasi doppiato lo sfidante con 1.132 voti rispetto ai 627 di Renzi e a Isernia ha raggiunto le 561 preferenze rispetto alle 307 del sindaco di Firenze. Alla fine tutti contenti per la grande prova democratica come l'hanno ribattezzata dal comitato organizzatore delle primarie. Soddisfatto anche il segretario regionale del PD Danilo Leva che incassa nella sua provincia quasi un 70% di preferenze a favore di Pierluigi Bersani. Una vittoria che fa morale anche per le sfide elettorali interne.